sentiero del minatore oh 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 l'ultima parte è abbastanza tosta che è qua, quasi qua però magari è cambiata è cambiata sì, era questa non morare adesso ho voluto esagerare l'ho saltato alla grande ma rimbalzato dall'altra non c'è il fisico chi c'ha il fisico qua? nessuno ci si adatta oh, ecco la parte tosta è qua bisogna andare su di gas in prima tanto ormai siamo arrivati insomma, siamo arrivati mica qua si, si è spento un paio di volte si è spento un paio di volte a lui niente di ho fatto un rimbalzone sempre il sentiero del minatore eh, ecco No, 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 no. ... ... ... ... ... è una parola ok 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 buono grazie esce di qua eh si non c'è rincorsa ma qua tiene buona buona si fa per dire eh eh buona si a a me me a 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